Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a tutti, benvenuti in questo nuovo video. E dobbiamo dire una cosa molto interessante, molto importante, che solo i falliti si lamentano. Questo è un concetto fondamentale, solo i falliti si lamentano. Bisogna tenerlo presente, è un dato di fatto, soltanto i falliti si lamentano. E prima di approfondire questo tema, però, iscriviti al canale e seguimi, iscriviti al canale e seguimi. Iscriviti al canale e potrai scegliere diversi livelli di abbonamento. Abbonamento live con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione in seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una conoscenza mirata, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazione in seminario dal vivo, abbonamento master consulting con in più una conoscenza appunto al canale YouTube e anche sulla pagina Instagram. E adesso veniamo, veniamo al tema, veniamo al tema e il tema è questo, il tema è quello del soltanto i falliti si lamentano. Allora, se tu sei un fallito, vatti pure a lamentare. Fallito dove? Fallito nel lavoro, fallito nelle relazioni sentimentali affettive. Perché lamentarsi non serve a niente, c'è da tenere presente, questo è un fatto fondamentale. Se hai tempo per lamentarti, hai pure tempo di cambiare le cose di cui ti lamenti. Questo è un concetto fondamentale. Se tu hai tempo di lamentarti, stai lì a dire, iiii mi ha lasciato, iiii non mi vuole più, iiii è così, iiii è così. Se tu hai tempo di fare tutto questo, significa che hai il tempo per, diciamo, che hai tempo per fare tutto, che hai tempo per essere anche una persona che può ottenere dei risultati. E quindi inizia a cambiare. Questo è un punto fondamentale. Per te deve essere un punto molto importante. E allora smetti di lamentarti perché lamentarti non serve assolutamente a niente. E cosa devi fare invece di lamentarti? Beh, se sei donna, ad esempio, impara il linguaggio non verbale, impara a sedurre vecchia malgasciona o carampana che non sei altri, impara a sedurre i maschi, impara le tattiche di seduzione, impara a sederti, impara a camminare, impara il linguaggio non verbale, impara a gestire le relazioni, impara a renderti conto che una relazione ci sono tante cose che tu puoi fare per ottenere dei risultati. Ad esempio, tieni presente questo, che ci sono contesti, diciamo, dove si possono veramente raggiungere dei risultati davvero importanti. Invece, cosa fanno le persone? Non fanno assolutamente niente, continuano a lamentarsi. È molto importante imparare a conquistare attraverso il linguaggio non verbale. Quindi, anziché lamentarti, cerca di capire dove la persona ha i turbamenti. Perché se tu riesci ad amplificare i turbamenti, gli dai sicuramente delle emozioni. Invece di fare la carampana, invece di fare assolutamente la malgacciona, impara a capire. E cosa devi fare? Devi andare a toccare tutti i cinque punti distonici. I rapporti con la famiglia d'origine, i rapporti sentimentali effettivi, i rapporti passionali sessuali, l'immagine esterna del sé, cioè come questa persona è realizzata nella vita, nel lavoro, nella seduzione. L'immagine interna del sé, cioè come questa persona è realizzata con l'autostima, con se stesso. E poi impara ad amplificarli tutti i turbamenti. Fallo sentire solo. Amplifichagli l'abbandono, stimoli il rifiuto, dagli disistima, giudicalo negativamente, comparalo negativamente con gli altri. Insomma, fai delle cose, agisci, definisci degli obiettivi. Se tu non sai dove vuoi andare, vecchia malgacciona, non saprai mai dove puoi raggiungere. Devi imparare a sapere dove andare. È molto importante questo. Gli obiettivi che definisci devono essere smart, specifici, misurabili, accessibili, realistici e temporalmente collocati. Questo è quello che devi imparare a fare. Perché nessun vent è favorevole per il marinaio che non sa dove andare, ma tutti i venti possono diventare favorevoli per il marinaio che sa dove andare. Quindi, cara malgacciona, impara a gestire le situazioni. E questo è fondamentale, perché altrimenti non riuscirai a fare niente. Altrimenti continuerai, da sciampista quale sei, ad andare ad innamorarti dei catramisti cassa integrati, che non ti daranno nulla, perché se tu speri che il catramista cassa integrato ti possa dare qualcosa, beh, sei fuori strada. Devi imparare a gestire le situazioni. Quello è fondamentale. E poi, diciamo, le malgaccioni si lamentano perché vanno su Badoo e trovano tutte persone che se le vogliono trombare. Ma è evidente, no, che se vai sulle chat, sulle, come dire, piattaforme di quel genere lì, oppure vai nelle balere di seconda mano, vai nelle balere di seconda mano delle discoteche di periferia della tua città, è ovvio che riesci a trovare soltanto persone di questo genere. Oppure ci sono persone che poi non sanno neanche fare niente e passano il tempo a cazzeggiare, diciamo, nelle varie chat, nelle varie cose. Tu devi diventare una donna seducente, devi diventare una donna attraente, devi imparare ad attrarre, devi imparare a coinvolgere. Se non impari a fare queste cose è inutile che ti lamenti, perché se ti lamenti vuol dire che sei una fallita, se ti lamenti vuol dire che non vali niente, se ti lamenti vuol dire che non ti meriti niente. Quindi questo è fondamentale. E poi smetti di inseguire sempre le stesse persone. Se tu continui a inseguire sempre le stesse persone, è ovvio che non noterai nessun risultato. Continui a inseguire persone che ti sfanculano, continui a inseguire persone che non ti rispondono neanche ai messaggi, continui a inseguire persone che di te se ne fregano. Ecco, questa è la cosa peggiore che puoi fare. Persone che non ti prendono neanche in considerazione, persone che non vogliono sapere di te, ti metti la dignità sotto i piedi, diventi una donna che non vale niente e passi tutto il tempo a lamentarti. Oppure fai la gelosa, fai la... Quindi smettila e vatti a cercare qualcun altro, vatti a cercare qualche persona che ti possa dare quello che tu veramente magari ti meriti. Ecco, smetti di lamentarti, smetti di rimuginare e agisci, perché l'azione inibisce la riflessione. E quindi inizia ad agire e non stare a rompere i maroni lamentandoti. E per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo, ciao! Grazie. Grazie. Grazie.